far finire qua il paziente si sieda non lì, qui, qui io, dove ti tolera? tu sei immediatamente qui e tu adesso dobbiamo affrontare grandissima prova per la tua grandissima dieta adesso io a portare dal mio cameriere polpetti tipici di papà unici, speciali piena di carne cameriere, portare polpetti polpetti, chieda no a questi polpetti essere unici speciali piena di carne parmigiano pancratato il tutto il tutto il tutto morbidito con latte 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 di vino di vino di vino tu non capire com'è sta bontà e ora far finire mio figlio me far finire te com'è lui mangiare polpetti 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 pampino tu ti devi far di mangiare polpetti immediatamente per far venire fame come è sta signale che sta facendo calda diet mangiare andare via ora bambino ai fai che avessi polpetti che avessi polpetti unici unici tu non capire che avessi contà il tutto essere speciale speciale con i pezzi di polpetti 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 accompagnato col vino nero di arreno con i pezzi tu mangia tu mangia tu mangia inferiari polpetti 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 polpetti